Ringraziamento speciale, presa e stinta, la sicurezza, la sicurezza, la sicurezza, la sicurezza, mamma mia questa è una versione un po' curva però, è rinforzata diciamo Appena vi danno l'ok, figurati se lui parte con una cosina così, si è fatto fare la sigla da un ingegnere della NASA e poi comunque la fatta pronto Dopo dopo dopo, questa è normale, questa era un ingresso normale, ti mette paura, ti dice le cose così, ti mette paura Signore e signori, 80 con Florio Dain-BJ Ah carini, bellini, quanto mi piacete Allora, bentornati, ciao Venturina Ah che piacere, siamo in trasferta, quest'anno siamo in trasferta, obbligata ovviamente Ringrazio tutti di essere benvenuti Siamo un po' mocetti al momento, è meglio di fare due saltini? Questo è il mio set degli anni 80, e direi di partire con qualche cosa di abbastanza conosciuto Che mi dite? Non sono i 5 mai Don't you forget about me Questa è la musica di 80, questa è la musica di 90, questa è la musica di Palo Dain-BJ È il momento di muoversi, alzate le mani, alzate le chiappe Don't you, come and come me, and sing your mind Oh tanto, ancora con noi, anche a Vigilina Avete caldo? Sapeste che io Pronti a orare insieme a noi? La radio ringrazia La radio stuma con i spessi sono blu snap De Kroosel Snap Geeks Storia Dain-BJ E questo è un fechato, perché adesso si usa un fechato, no? E ne è di 80, no, ma adesso si Insieme a Mili e Mili Noi Chiedere il perdente, sei di un po', cambiamo! Su le mani belli, questo è appassamento per ora! Ho l'impresso della cazzatura e questo è un popowe! Registriamo tutto! Mi... Limpia, botte un po' sì... Una milione di sono! Inza, Inza, Heer Ci sono i superi Inza, Inza, Heer I'ma quella chima in questa pausa Inza, Inza, Heer Si lo vanno in questa strompa Inza ergo Inza ergo Un altro non è vero E I'm gonna have it for her body number five Sì! Tra poco risolviamo o meglio, e riempiamo negli anni seccato Spesso finisconosciuto, non per tutti Yeah, yeah Allora, fiamme tutti, dietro le transette sono pure 15 euro e non sentite tira sulle mani, tira, tira sulle mani tira adesso a tempo oh se ancora qualcuno è tira a sola si crede hot dog hot dog hot dog e gold ragazza chi si non ricorda? io non sentire questo disco no dall'81 credo eh ma io sono giovane bello buonasera 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 oh 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 informazione di servizio oh 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 Allora, insieme! Allora, però, ci sarebbe da lavorare! Allora, maite! Allora, insieme! E la settimana sta cominciando adesso! Speriamo il ritmo adesso! Dopodiché si comballa con la musica di 90! Ancora, insieme, vici, puoi di me Ecco, arriva Ma rosa 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 Sì, vici, vici Vici Li paura È adesso Sì Sei ufficialmente in condizione per aver sconato di due minuti ooooh io ad una sera non andami pure vieni qua, vieni qua, vieni qua vieni qua, no 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 Florio dai DJ ringraziamento speciale presa stessa in carola di Roma la sicurezza è una sicurezza mamma mia, questa è una versione un po' curva però è rinforzata diciamo